Musica Ci sta dai, ci assomiglia un papa, ci sta dai Abbiamo trovato il nostro uomo simbolo Andrew Tutte, cioè questo è spettacolo Musica Bella a tutti ragazzoli e benvenuti in questo nuovo video Io sono Maullo941, signori miei Oggi siamo tornati su FIVA20 Ma iniziamo una nuova avventura, signori miei Come vi ho annunciato in qualche video precedente Forse in quello di lunedì Oggi inizieremo una nuova avventura su FIVA20 Sempre in modalità allenatore, ragazzoli Ma facendo un'altra tipologia Ovvero non giocheremo nessuna partita Che noi andremo a affrontare Ma le simuleremo tutte Partendo dal gradino più basso Dell'ultima categoria della Premier League Del campionato inglese Con la squadra più scarsa, diciamo, presente in quella categoria Con l'obiettivo di portare in Premier League E a vincere almeno una coppa A quella squadra Simulando qualsiasi tipo di partita Anche che sia la finale di Champions, signori miei La finale di Champions Ovviamente partiamo, signori miei Alla carriera allenatore Per fare questa impresa, signori miei Allora Chi prendiamo? Chi prendiamo? Chi prendiamo? Prendiamo lui Mi sembra molto faccia da allenatore inglese Prendiamo lui, signori miei Mi sta simpatico Ora, per portare a termine questa impresa, signori miei Noi già stiamo facendo una grande impresa Col Circo Venezia Col nostro comodino Ma qui ci vuole qualcuno di più potente, signori miei Qui non ci vuole un'impresa Qui serve un miracolo Quindi colui che guiderà questa squadra Che tra un poco vedrete qual è la squadra E qual è l'obiettivo Anche se forse dal nome del video l'avete capito Sarà il nostro carissimo Papa Maullo, signori miei Quindi andiamo a sistemare nome Nome, nome, maullo No, dobbiamo metterci maullo Il nostro maullo No, ho sbagliato Scusatemi Come si mettono quelle grandi? Allora il nome Deve essere per forza maullo Se chiamo maullo 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 Ok Cognome Papa Non ha molto senso Ma purtroppo ma signori miei È un miracolo Serve un miracolo Per riuscire a portare a casa magari Una coppa In tutte queste stagioni Che ci aspetteranno praticamente Signori miei Papa Perfetto Il nostro Papa Maullo Che appena inizierà La carriera Sarà lui A prendere possesso Di ciò signori miei Allora scusatemi un attimo La nazionalità ovviamente è italiana Dove sta l'Italia? Italiana Perfetto Testa Vediamo un attimo Allora ci sta Ce l'ha molto la faccia Da Papa Posso metterli in una tunica? Aspetta No Aspettacolo Dobbiamo metterli Dobbiamo cercare di metterli in una tunica Signori miei No 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 Un qualcosa di No no Un Papa con la magliettina così No Però un Papa con la camicia nera Raga Cioè Se non è questo un prete Ditemi voi No Aspetta 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 Torna qui Torna qui Maglia Giacca No Pantaloni No Cravatta No Non ci possiamo mettere nessun tipo di cravatta No Mi piace così raga Il nostro Papa Maullo va bene così Sto un attimo a vomitare Il nostro Papa Maullo va bene così Signori miei Ci sta Dai Ci assomiglia un Papa Ci sta Dai Ci sta Ovviamente il Papa forse ha la camicia Dovrebbe essere Don fan Inter Ci va bene così Allora signori miei Qual è la squadra che noi andremo a prendere Campionato inglese Non in Premier League Non in EFL Championship Non in League One Ma è League Two Signori miei League Two La squadra Più scarsa Avvero Una stellina e mezzo Una stellina C'è il Cambridge Attenzione Il Cambridge se la gioca Cioè ragazzi Ce ne sono di squadre messe male Il Charlest Il Charlton Tutte messe malissimo Tutte da una stellina Una stellina e mezzo Una stellina Allora Il Buon Falc è partito con l'Eton Orient E sta facendo un'impresa Io signori miei Voglio partire dai Camberetti In Morecambe Non so come si pronuncia Se si pronuncia bene Morecambe Ma i Gamberetti Signori miei Conquisteranno il mondo Signori miei Qui lo dico E Papa Maullo Lo certifica Porteremo Questa squadra A vincere Qualcosa Non si sa cosa Ma qualcosa La vinceremo Forza Gamberetti Alle Gamberetti Vinciamo qualcosa Bene ragazzoni Allora Papa Maullo Prende possesso Di questo nuovo video E siamo pronti Signori miei Astag Alleluia Astag Gamberetti Se stai guardando questo video Mi raccomando Potere Gamberetti Aspettate Ritorno un attimino Io ragazzoni Facciamo un attimino Allora Fondata nel 1920 La squadra Amorecambe A sede Amorecambe Vale giusto Attualmente Milita In League Tour La quarta sede Il campionato di calcio inglese Ragazzoni Non perdiamo tempo Partiamo Allora Esperto non ci interessa Il tempo non ci interessa Scegli la valuta euro Stadio Town Park Boh Si Non so millemente Quale sia lo stadio Del Moreno Dei Gamberetti E 9000 spettatori Ah quantomeno questo 22.000 22.000 Dai 22.000 Inserisci il nome stadio Lo chiamiamo Gamberetti Gam 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 Gamberetti All'italiana Proprio All'italiana Una cosa bruttissima Gamberetti Dammi grande Stadium Mi piace Gamberetti Stadium Va bene così Mi piace Mi piace Applica e desci Gamberetti Stadium E competizione europea Attiva Te la possibilità Giocare in Europa La prima stagione No Finestra Di mercato Attivo E offerte Per la nazione Va bene Partiamo ragazzoni Ok ci siamo Fratelli Siamo arrivati All'inizio Con l'invito Al torneo Precampionato Andiamo agli inviti Signori mie Perché abbiamo bisogno Di soldi Allora ci offrono 1200 Per andare in Olanda 1050 1250 Andiamo a 1250 Così facciamo Più soldi E faremo Anche più Schifo Va bene Così Allora Vediamo un attimino Di capire Quanto siamo Messi male Andiamo in ufficio Che ci sono le solite E-mail A casaccio Che uno neanche Legge Vediamo un attimino La nostra formazione Giochiamo con il 433 Che mi fa letteralmente Brutto Brutto Dobbiamo essere puliti Quando parliamo In questo video Sono un papa Il papa parla Che gente giovane Che c'è Chi è Ellison Sembra Stam Qualche anno fa Allora In attack abbiamo Slav 59 Stockton 60 60 Oh Sullivan Oh Sullivan È arrivato Sullivan Oh Sullivan 64 Esterno destro Poi abbiamo Phillips 62 Canyon 62 Diaguarra Gua 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 Questo Questo sorride E' simpatico Tu mi stai simpatico Sembra molto quello Del film Il terzo min No Il Il miglio Il terzo Il min Vabbè Lasciamo perdere Poi abbiamo Cranston Mamma che barba Lavelle Una sicurezza Un 59 Old Questo è già dal nome Si capisce che è vecchio Cunei Conei Conei E Mufaubi Bei giocatori Poi abbiamo Miller Wilding Ellison Mendez Allora Non ci sto capendo Una cip Ragazzi Andiamo in Nub rosa Prime cose da fare Subito Vedere chi è in prestito E buttarlo fuori Allora lui è in prestito Quindi te ne puoi tornare Da dove sei venuto Non sopporto i giocatori In prestito Poi abbiamo Roche Che gli sta scadendo il contratto Charleston E' nostro Con Con Lan E' nostro Va bene E due esterni Sinistri Gli abbiamo Poi abbiamo Old Lavelle Sat Bacaré Boulou Boulou Mi fa ridere Boulou 1 2 3 4 5 C'è un difensore Di troppo Poi abbiamo Cune E Buxton Sono te due nostri No Cune In prestito Ciao Cune E' stato un piacere Conoscerti Poi abbiamo Canyon E Brewitt Che sono nostri Ellison Oteit Esterni Sinistri Ok Philips In prestito Ciao Philips E' stato un piacere Averti con noi Torna Quando vuoi Wilding E' nostro Diagugurara E' nostro Tutte Pfff Raga abbiamo trovato Abbiamo trovato Il nostro Uomo simbolo Andrew Tutte Cioè Questo E' spettacolo Quanto c'ha 28 anni Tu Tu alzarai la Champions Tutte Le coppe Deve alzarle Tutte lui Poi abbiamo Sullivan Esterno destro Mendes Gomez Esterno destro Buono In attacca abbiamo Stotcon Slave Leach Smith Miller Barnaby Howard Abbiamo più attaccanti Che altro Ragazzi Ah no Questi sono tutti in prestito Andatevene Grazie Ciao Tornate quando volete La porta è sempre aperta Ciao Questi sono tutti In scadenza Ok Ora abbiamo 4 attaccanti Due esterni Un po' di centrocampisti Due esterni Sinistri Altri centrocampisti Allora Breivit Io lo manderei Subito via Aggiungi la lista Tra esperimenti Così abbiamo 4 difensori 4 centrocampisti Due esterni Mbulu Bacaré Vediamo chi mandare Via Bacaré Lo manderei In prestito Sì Bacaré Mandalo No Vendilo direttamente Perché fai proprio Brutto Brutto Poi ragazzoli Vediamo un attimino Altra cosa da vedere Quanti soldi abbiamo La povertà 956 mila Ottimo Ce non abbiamo Un ciuffolo Di niente Non abbiamo Un ciuffolo Di niente Io direi Di portare Un po' di budget Da quel lato E andare A prendere Un osservatore Signori miei Così Dobbiamo puntare Sui giovani Chi possiamo andare A prendere Questo Olarei Buono Vai Olarei Vai Dove lo mandiamo Signori miei Fai seguire I giocatori Sì Alla voglio Degli scozzesi Scozzesi Posso avere Gli scozzesi Nove mesi Qualsiasi giocatore Vai 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 E conquista Il mondo C'è qualche altro Che possiamo Prendere No Gli altri Fanno schifo Va bene Vediamo Se riusciamo Andare Un attimino Avanti In questo torneo E a vincere Qualcosa Qualche altro Soldo E a vincere Qualche altro Soldo Allora Signori miei Detto questo Io per il momento Mi fermerei Qui Facciamo Solamente Un attimo Una modifica No Ho sbagliato Ok Come funziona Qui Io sono Nuovo Di questo gioco Il 4-4-2 In linea Ecco Giochiamo così Giochiamo così Allora In porta Amelstrad Non abbiamo Porte migliore Rocher Più forte Sulla destra Abbiamo Buckstone E il basta Perché sulla destra C'è rimasto lui In difesa Abbiamo Hold E a posto Di Lavelle Può giocare Sutton Che è più forte Sulla sinistra Va bene Cranston Poi abbiamo Esterno sinistro Dovremmo avere Ellison Oh se la giocano Tutte e due Il pelatone Il pelatone Per noi A centrocampo 63 No Sono più forti Praticamente Wilding E Canyon Ok Sulla destra Sullivan Perché Mendez Fa schifo In attacco Di Gua La staccante All'attaccante Più forte Leith Smith E più forte Quindi può giocare Lui Perfetto Leith Ed Di Gua 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 Questi sono I nostri 11 titolari Signori miei Sistemiamo Anche un attimino Qua dietro Così Siamo pronti Per affrontare La prima partita che andremo a giocare nel prossimo episodio, signori miei, sì, sto già ripetendo troppe volte, signori miei, questa cosa non va bene, non va bene per niente, allora, Mendez lo mettiamo qui, qui andiamo a mettere un esterno sinistro che abbiamo, lui, mettiamo lui, sì, però Breivit è più forte di Mendez e due attaccanti, tutte, o tutte, deve giocarle tutte, quindi al posto di Slow, gioca tutte, signori miei, tutte le deve giocare tutte, ma non da oggi, dal prossimo video. Detto questo ragazzuoli, un hashtag, alleluia e pace a tutti voi da Papa Maullo, mi raccomando lasciate i like, lasciate commenti e suggerimenti. Detto questo, noi ci vediamo prossimamente per il miracolo delle gamberetti alla conquista del campionato inglese. Bella ragazzi, ciao!